L'italiano è che rischia da questo punto di chiudere un'ottega perché non può fare bussare. Grazie Mariano, torniamo a questo punto, non una protesta dei sindaci, abbiamo sentito divenuta una replica, ma secondo me molto, molto imparata, il Senato di Marese ha le parole di Gianfranco Polino, sottoscrittore dell'Economia, sì, parole di buon senso, ma anche parole che testimoniano come in questi anni che l'incentro Roma non abbia fatto di sindare tra gli interventi da fare per destinare saldi e finanziamenti a voi, tra chi era prima lì, cioè l'Omuni, secondo me, e il resto della pratica amministrazione, quando si adottano le regole di tagli generali, non si finisce, abbiamo l'occhio più continuo per lavare risorse a chi ne ha più bisogno e per invece fare favori come con il fondo di ricontro di chi ha sfondato i libici nei comuni, sia eventualmente fatto, io ricordo che da Piemontese, per esempio, a me dispiace molto di avere i comuni di Alessandra facendo la rite del ponte, vi faccio un aspetto, tutti che siete in ascolto, abbiamo fatto la rite del ponte dei comuni, non vale, con regole e criteri standard, uguali, quindi si deve certificare politicamente, a cui capita spesso che ci si vada quando c'è un'amministrazione di volo politico diverso, ma mette a carico della precedente, ma nella verità, Alessandra è del ponte, è bene, è colpa sua, adesso si metteranno in regola, quando invece a noi, i trasferimenti per centinaia, centinaia di milioni e anzi, per miliardi, hanno continuato ad andare per aiutare il termo...